A lei la parola Presidente Marino. Grazie, io ringrazio innanzitutto il Presidente Messina e tutti voi per avermi invitato a dire alcune parole. Insomma, io mi atterrò a un'analisi dei dati che ancora una volta il prestigioso volume Sanità in Cifre ci illustra e così lo analizzerò alla luce di alcuni miei pensieri. Innanzitutto, nel prepararmi per venire qui questa mattina ho voluto ricercare tre numeri che evidentemente non rappresentano una fotografia scientificamente valida, ma insomma danno un'idea di che cosa sta accadendo nel nostro Paese. Nel 1921 il numero di centenari nel nostro Paese erano 49, nel 1981 1.304, all'ultimo censimento del 2011 16.145. è evidentemente una fotografia di come sta cambiando il nostro Paese e di come dobbiamo prepararci ad affrontare la sostenibilità di un bene così prezioso come il Servizio Sanitario Nazionale. A questo io vorrei aggiungere un altro dato che secondo me va ricordato e tenuto presente. Tante volte abbiamo ascoltato la parola costo, la parola spesa legata al Servizio Sanitario Nazionale. Per me i soldi investiti, che sono i soldi dei cittadini, che sono gli azionisti del Servizio Sanitario Nazionale, gli azionisti proprietari non sono né i presidenti di regione, né le giunte, né i politici, né gli amministratori, sono i cittadini che con le loro tasse lo sostengono dal 1978 quando è stato fondato con una legge. Il Servizio Sanitario Nazionale e gli investimenti, io li chiamo così, non spese, non costi, investimenti che noi nel nostro Paese mettiamo per le attività sanitarie dell'Italia sono di fatto inferiori a quello di altri Paesi dell'Europa 15. Questo va ricordato perché dire che spendiamo di più non è vero. Anche qui i numeri, con la tastardaggine dei numeri, ci dicono che la spesa sanitaria pubblica nel nostro Paese, l'Europa 15 la calcola in dollari, è di 2.341 dollari in Italia, di 3.187 in Francia e 3.124 in Germania. Poi ci sono Paesi che hanno economie diverse dalla nostra, come la Norvegia, dove si superano i 4.000 dollari. Insomma, è chiaro che noi spendiamo meno di Paesi che sono comparabili al nostro. Questo va tenuto presente, soprattutto in un momento in cui da tre anni, una legge dopo l'altra, riduce le risorse a carico del Fondo Sanitario Nazionale, mentre non è stato, io lo ripeto sempre perché forse poi alla fine qualcuno ascolterà, non è stato ridotto neanche di un euro gli investimenti in Ministero della Difesa e soprattutto in armamenti. Abbiamo anzi visto che invece di ridurre, come molti di noi avevano richiesto, gli investimenti in caccia bombardieri F-35 verranno aumentati di 3 miliardi e portati da 15 a 18 miliardi, mentre vengono ridotti di 30 miliardi i soldi destinati al Servizio Sanitario Nazionale. Penso che sia un errore, io lo penso davvero, ne sono assolutamente convinto, anche perché come molti di voi entrano negli ospedali, entrano nei pronto soccorsi e vedo il disagio che i nostri operatori sanitari vivono ogni giorno, ma soprattutto le sofferenze che le persone, che rimangono spesso per delle giornate, due, tre, quattro giorni, nelle aree dei pronto soccorsi prima di trovare una risposta ai loro bisogni di salute. E' anche vero, come ci ha ricordato il Presidente Messina, che ci sono delle aree dove certamente è possibile razionalizzare. Si è concentrato, permettetemi una parola anche a me, su un tema nel quale ho investito la maggior parte della mia vita da adulto, che è quello dei trapianti. Cinque centri per il trapianto di fegato a Roma, ognuno con un bilancio paragonabile a quello del centro delle molinette di Torino. Tutti e cinque i centri per il trapianto del fegato di Roma l'anno scorso hanno eseguito 98 trapianti, il centro delle molinette 137. Anche questi sono numeri. E io non mi chiedo se veramente abbiamo bisogno di sostenere cinque centri per il trapianto del fegato, anche se, lo dico con rispetto, io ho vissuto tutta la mia vita nel mondo accademico, forse sarà molto difficile cancellare quattro cattedre, perché questo poi è il vero problema, insomma. E questo purtroppo dovrebbe essere invece fatto. Un altro dato che a me ha colpito moltissimo nell'analisi che facciamo, nelle varie analisi che facciamo in commissione d'inchiesta, è andare a ricercare come patologie che richiedono un'altissima specializzazione e vengono trattate nel nostro Paese. Mi sono, ad esempio, esercitato su varie patologie. Una di queste è il cancro dello stomaco. Se io avessi un cancro dello stomaco, andrei a ricercare un centro dove viene eseguito questo intervento numerose volte l'anno. Insomma, io personalmente mi attesterei su almeno 100-200 interventi l'anno, perché non si tratta solo di portare via lo stomaco che qualunque chirurgo probabilmente è in grado di fare, ma di completare con l'asportazione dei linfonodi. Insomma, un intervento che richiede pratica, competenza e lavoro di team. Sono andato a vedere quanti interventi di questo tipo vengono eseguiti al Policlinico Umberto I di Roma e il numero, sembra un numero, non dico da grandissima statistica, ma un numero ottimale, 80 l'anno. Poi sono andato a vedere dove vengono eseguiti. Vengono eseguiti in 15 divisioni diverse, 10 di queste ne eseguono meno di uno a stagione, meno di uno ogni stagione, meno di 4 l'anno. Alcuni uno l'anno. Ecco, allora è chiaro che queste cose vanno corrette, ma ci vuole determinazione, perché, come ricordava il Presidente Messina, per quanto riguarda i centri e i trapianti, non è che noi non abbiamo delle regole. La conferenza Stato-Regioni nel 2002 ha detto che, per esempio per il trapianto di fegato, e l'ha messo in una norma, a chi ne esegue meno di 25 l'anno dovrebbe chiudere, perché è pericoloso per i risultati e costa troppo. Bene. In Italia, su appunto il numero dei centri per il trapianto di fegato che abbiamo, il 36% non ha mai raggiunto lo standard di 25 trapianti l'anno, eppure sono lì e funzionano. Il 31% è appena al di sopra della standard di 25 trapianti l'anno, ma è sotto la soglia, indicata anche quella nel 2002, 10 anni fa, dalla conferenza Stato-Regione, di economicità, che è 50 l'anno. Nessuno di questi centri ha chiuso o è evidentemente a rischio di chiusura. Questo è un errore ed è un fatto molto grave, perché è grave per la qualità dei risultati ed è grave anche per come investiamo il nostro danaro. Un'ultima osservazione la vorrei fare sul futuro della nostra sanità. Io credo che ci siano due percorsi che devono essere assolutamente seguiti con convinzione e con determinazione. Ho iniziato dando il numero dei centenari. Se noi immaginiamo in una società come la nostra di affrontare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese con le stesse lenti del secolo passato, è meglio che cambiamo mestiere, perché non ce la faremo. Abbiamo tecnologie diverse, abbiamo speranza di vita molto più elevata e allora dobbiamo concentrarci su due cose essenzialmente. Uno, i stili di vita, corretti stili di vita che devono essere insegnati nelle scuole elementari con dei corsi che devono avere la stessa importanza della matematica o dell'italiano. Insomma, dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi il pericolo che si assumono mangiando alimenti che non sono salutari, non utilizzando bene il proprio corpo e poi quando diventano un po' più grandi consumando sigarette oppure alcolici o altri alimenti che certamente danneggiano la nostra salute. queste cose dobbiamo assolutamente farle perché in questo momento città come Napoli hanno il 20% dei bambini di scolarità elementare obesi. Noi davvero non ce la potremo fare se non cambiamo gli stili di vita della nostra popolazione. Il secondo aspetto è quello di investire in maniera determinata e chiudo anche qui con qualche numero sull'assistenza territoriale. Però davvero non possiamo prenderci in giro. Io non credo che si possa passare da un'assistenza territoriale dove i medici di famiglia hanno i loro studi aperti alcune ore la settimana a studi dove il servizio sia prestato addirittura come dice l'articolo 1 di una recente legge 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana a costo zero. Questo davvero non è possibile, non è immaginabile. Io sono andato a vedere i numeri anche qui. La regione toscana ha, come altre regioni, ho preso quell'esempio perché ho avuto la possibilità di accedere a tutti i numeri, realizzato delle strutture che sono aperte, coinvolgendo, valorizzando il lavoro dei nostri medici di famiglia e avendo 40 di queste strutture aperte dalle 8 alle 24 sei giorni a settimana. L'investimento iniziale è stato di 18 milioni di euro. L'assistenza viene erogata a circa 1 milione e 200 mila persone, quindi il 40% della popolazione della Toscana. La spesa corrente è esattamente 16 milioni 639 mila euro l'anno. Allora, quello che vorrei dire, vedo qua Giacomo Millillo e spero che sia d'accordo con queste mie considerazioni, che certamente nel momento in cui avremo realizzato queste strutture in larga parte del Paese e avremo svolto quel cambio culturale per cui le persone non vedranno come unico punto di riferimento o il pronto soccorso, ma vedranno queste strutture dove poter andare, dove poter essere accolte anche da qualcuno che conoscono, che ha un volto amico e non rimanere per una tosse secca o per un'altra patologia che può essere assistita senza necessità dell'alta tecnologia di un ospedale e con dei tempi anche più brevi. Ma perché tutto questo avvenga, perché ci siano le strutture e perché avvenga anche il cambio culturale nella testa delle persone che possono con sicurezza rivolgersi a queste strutture, occorre del tempo. E quindi, come in ogni attività, occorre un investimento. Quello che chiunque fa impresa sa che è l'investimento di start-up. Bisogna assolutamente investire per poi trovarci tra 10 o 15 anni in una sanità che è distribuita in maniera diversa e molto più incentrata sull'aiuto che possono dare i nostri medici di famiglia attraverso i servizi territoriali. Io la penso così e penso che solo seguendo questo tipo di percorso noi avremo un servizio sanitario di cui non tanto essere orgogliosi ma soprattutto che sia davvero di aiuto, di sostegno a tutte le persone nel nostro Paese in qualunque area, in qualunque città vivano e in qualunque area crescano. Questo è importante perché le differenze, e lo sappiamo tutti, sono ancora molto rilevanti e dobbiamo colmarle. Grazie e buon lavoro.